Grazie a tutti. 168 Madame de Volange a Madame de Rosemond Soprattutto vorrei che venissero soffocate in tempo, prima che si diffondano troppo. Ma ho sentito parlare solo lievi sera tardi di questi orrori che cominciano adesso a propagarsi. E stamattina, quando ho mandato a chiedere notizie di Madame de Merteuil, era appena partita per la campagna dove si fermerà un paio di giorni. Nessuno mi ha saputo dire da chi è andata. La sua seconda cameriera che ho fatto venire a casa mia per parlarle mi ha detto che la sua padrona le aveva ordinato di aspettarla per giovedì prossimo. Nessuno dei domestici rimasti qui sa qualcosa di più. Io stessa non immagino dove possa essere e non ho presente nessuna persona che sia rimasta in campagna così tardi. Comunque sia, voi forse, prima del suo ritorno potreste darmi qualche schiarimento che possa esserle utile, perché queste odiose storie si basano su certe circostanze della morte di Valmont. Voi sarete certamente informata della loro veridicità o meno, o se non altro vi sarà facile farlo. Ve lo chiedo per favore. Ecco quello che si dice, o meglio si mormora, ma che non tarderà a fare molto scalpore. Si dice che la discussione sorta tra Valmont e D'Anceny sia opera di Madame de Merteuil che li ingannava tutti e due, che come avviene quasi sempre in questi casi, i due rivali si sono prima abbattuti e solo più tardi sono venuti a una spiegazione, e che questa ha portato a una sincera riconciliazione che per fare conoscere Madame de Merteuil al cavaliere D'Anceny e anche per giustificarsi completamente, Valmont ha aggiunto alle parole una quantità di lettere, facenti parte di una regolare corrispondenza che egli intratteneva con lei, dove Madame de Merteuil racconta di sé e in uno stile del tutto libero, aneddoti estremamente scandalosi. Si aggiunge che D'Anceny in un primo impeto di indignazione ha mostrato queste lettere a chiunque volesse vederle e che adesso girano per Parigi. Se ne citano due in particolare, una in cui lei fa la storia della sua vita e dei suoi principi morali e pare sia il colmo dell'orrore, l'altra che giustifica completamente Prevan, di cui certo ricordate la storia, dove c'è la prova che lui non ha fatto, al contrario di quello che si sapeva, che cedere alle avance più smaccate di Madame de Merteuil e che l'appuntamento era stato combinato insieme a lei. «Fortunatamente ho valide ragioni per credere che queste accuse siano false e quanto odiose. Intanto sappiamo tutte e due che Valmont non si occupava certo di Madame de Merteuil e ho ragione di credere che D'Anceny non se ne occupasse di più. Così mi pare dimostrato che lei non ha potuto essere né la causa né l'autrice della disputa. Non capisco neanche qual interesse avrebbe potuto avere Madame de Merteuil, che si suppone, d'accordo con Prevan, a fare una scena che non poteva non essere spiacevole per lo scandalo che avrebbe suscitato e diventare molto pericolosa per lei, dato che si faceva un irriducibile nemico di un uomo, che era parte dei suoi segreti e aveva allora molti amici. Tuttavia, c'è da dire che dopo quell'avventura non si è levata una sola voce in difesa di Prevan e lui da parte sua non ha fatto alcuna rimostranza. Queste riflessioni mi inducono a supporre che sia lui l'autore delle voci che circolano oggi e a considerare queste infamie come opera dell'odio e della vendetta di un uomo che vedendosi perduto spera in questo modo di diffondere dubbi e provocare una diversione utile a lui. Ma da qualunque parte vengano queste malvagità la cosa più urgente è distruggerle. Cadrebbero da sole e se come verosimile si potesse provare che Valmone e D'Anseny non si sono parlati dopo quella disgraziata faccenda e non c'è stata alcuna consegna di lettere. Nell'impazienza di verificare questi fatti stamattina ho mandato qualcuno a casa di D'Anseny neanche lui a Parigi. I suoi domestici hanno detto al mio cameriere che era partito questa notte in seguito un avvertimento ricevuto ieri e che il luogo dove si trovava era segreto probabilmente le conseguenze del duello. Solo da voi dunque mia cara e degna amica posso avere i particolari che mi interessano e che possono diventare così necessari a Madame de Merteuil. Vi rinnovo la preghiera di farmeli avere il più presto possibile. L'indisposizione di mia figlia non ha avuto alcuna conseguenza. vi invia i suoi rispettosi saluti. 11 dicembre. 169 Il Cavaliere d'Anseny a Madame de Rosemont Signora, forse troverete molto strano il passo che faccio oggi ma vi supplico prima di giudicarmi ascoltatemi e non vogliate vedere audacia e temerarietà dove invece non c'è che rispetto e confidenza. Non mi nascondo i torti che ho ai vostri occhi e non me li perdonerei tutta la vita se potessi pensare anche solo un istante che mi sarebbe stato possibile evitarli. Siate certa anche Signora che pur sentendomi immune dai rimproveri non lo sono mai dai rimpianti e posso aggiungere in tutta sincerità che quelli che vi ho causato centrano molto in quelli che provo. Per credere a questi sentimenti di cui oso darvi assicurazione basterà che vi rendiate giustizia e sappiate che pur non avendo l'onore di essere conosciuto da voi ho quello di conoscervi. Tuttavia quando mi lamento per la fatalità che ha provocato insieme il vostro dolore e le mie disgrazie qualcuno vuol farmi credere che tutta presa dal desiderio di vendetta non cercate che il mezzo per soddisfarla anche con la severità della legge. Permettete innanzitutto di farvi osservare a questo proposito che il dolore travisa il vostro giudizio perché il mio interesse è strettamente collegato a quello di Monsieur de Valmont il quale si troverebbe coinvolto anche lui nella condanna che provochereste contro di me. Crederei dunque Signora di dovermi aspettare da voi più un aiuto che degli ostacoli nell'azione che potrei essere costretto a intraprendere affinché questo malaugurato incidente resti sepolto nel silenzio ma questa risorsa di complicità che conviene sia al colpevole che all'innocente non può bastare alla mia delicatezza d'animo non volendo avervi come controparte vi reclamo come mio giudice la stima delle persone che si rispettano è troppo preziosa perché io mi lasci portar via la vostra senza difenderla e credo di averne la possibilità difatti se ammettete che la vendetta è permessa anzi doverosa quando si è traditi nell'amore nell'amicizia e soprattutto nella fiducia se ammettete questo i miei torti non esisteranno più siete libera di non credere alle mie parole ma leggete se ne avete il coraggio la corrispondenza che deposito nelle vostre mani la gran quantità di lettere in originale induce a ritenere autentiche anche quelle di cui esiste solo la copia del resto io ho ricevuto questo carteggio del resto io ho ricevuto questo carteggio che ho l'onore di inviarvi dalle stesse mani di Mousside Valmont non vi ho aggiunto niente ho tolto solo due lettere che mi sono permesso di rendere pubbliche una era necessaria alla comune vendetta mia e di Valmont vendetta alla quale avevamo diritto entrambi e di cui egli mi aveva espressamente incaricato inoltre ho creduto di rendere un servizio alla società smascherando una donna così pericolosa come Madame de Merteuil che come potete vedere è la sola la vera causa di tutto quello che è successo tra me e Mousside Valmont un senso di giustizia mi ha indotto a rendere pubblica la seconda a giustificazione di Mousside Prevan che conosco appena ma che non aveva affatto meritato il severo trattamento a cui è stato sottoposto nel severo giudizio del pubblico ancora più temibile per il quale soffre da lungo tempo senza alcuna possibilità di difendersi quindi non troverete che la copia di queste due lettere di cui ho il dovere di conservare gli originali per il resto non credo di poter consegnare in mani più sicure un plico che forse mi interessa non vada distrutto ma che arrossirei ad abusarne credo signora affidandovi queste carte di rendere un servizio alle persone che ne sono coinvolte più che consegnandole a loro stesse le tolgo dall'imbarazzo di riceverle da me e di sapervi informato di avvenimenti che senza altro desiderano vengano ignorati da tutti credo di dovervi avvertire a questo proposito che la corrispondenza qui unita non è che una parte di un carteggio ben più voluminoso da cui Valmont l'ha estratta in mia presenza e che voi ritroverete alla rimozione dei sigilli sotto il titolo che ho letto conto aperto tra la Marchesa di Merteuil e il Visconte di Valmont prenderete a questo riguardo la decisione che vi suggerirà la vostra prudenza sono signora col più profondo rispetto il vostro Danceni post scriptum qualche avvertimento che ho ricevuto ai consigli dei miei amici mi hanno convinto ad allontanarmi da Parigi per qualche tempo ma il luogo del mio rifugio segreto per tutti non lo sarà per voi se mi onorate di una risposta vi prego di indirizzarla al comando di al nome del comandatore di ho l'onore di scrivervi da casa sua 12 dicembre 170 Madame de Volange a Madame de Rosemond mia cara amica passo di sorpresa in sorpresa di dolore in dolore bisogna essere madre per aver l'idea di quello che ho sofferto tutta la mattinata di ieri e se le mie crudeli angosce si sono calmate soffro pur sempre di un tremendo dolore di cui non prevedo la fine ieri verso le 10 del mattino stupita di non aver visto ancora mia figlia ho mandato la mia cameriera per sapere il motivo di quel ritardo dopo un momento ella è tornata tutta spaventata e ha spaventato me ancora di più dicendomi che mia figlia non era nel suo appartamento e che fin dalle prime ore del mattino la sua cameriera non l'aveva trovata immaginate la mia situazione ho chiamato tutti i domestici e per primo il portiere tutti giuravano di non saper nulla e di non potermi dire niente sono corsa subito nella sua camera il disordine in cui si trovava mi ha fatto chiaramente capire che presumibilmente non era uscita che il mattino ma non ho trovato d'altra parte nessuna spiegazione ho guardato negli armadi nella scrivania tutto era posto anche i vestiti salvo quello col quale era uscita non aveva nemmeno preso quel po' di denaro che aveva dato che solo il giorno prima era venuta a sapere tutto quello che si dice di Madame de Merteuil alla quale è molto affezionata tanto che per tutta la serata non ha fatto che piangere e siccome mi sono ricordata che non sapeva che Madame de Merteuil era in campagna la mia prima idea è stata che avesse voluto andare a trovare la sua amica e avesse fatto la sciocchezza di andarci da sola ma il tempo passava e vedendo che non tornava mi riprese l'angoscia ogni attimo trascorso aumentava la mia pena e sebbene ardessi dal desiderio di sapere tuttavia non osavo chiedere notizie temendo di creare rumore intorno a un fatto che forse dopo avrei voluto nascondere a tutti no vi giuro che non ho mai sofferto tanto in vita mia finalmente alle due passate ho ricevuto contemporaneamente una lettera di mia figlia e una della superiore del convento la lettera di mia figlia diceva semplicemente che temendo mi opponesse alla sua vocazione di farsi suora non aveva osato parlarmene per il resto si scusava di aver preso quella decisione che certamente non avrei disapprovato se ne avessi conosciuto i motivi sui quali però mi pregava di non farle domande la superiore mi diceva che avendo visto arrivare una ragazza sola dapprima aveva rifiutato di riceverla ma dopo averla interrogata avendo saputo chi era aveva creduto di farmi un piacere cominciando a darle asilo per non esporla a nuove peregrinazioni come pareva decisa a fare la superiore dicendosi pronta a rimandarmi mia figlia qualora glielo avessi richiesto mi invitava secondo il suo parere a non oppormi a vocazione così decisa si scusava di non avermi potuto informare prima ma aveva dovuto faticare non poco a convincere mia figlia a scrivermi si era messa in testa che tutti dovevano ignorare il luogo dove si era rifugiata come crudele l'irragionevolezza dei ragazzi sono corse immediatamente al convento e dopo aver visto la superiore ho chiesto di poter vedere mia figlia ce n'è voluto per convincerla a scendere ma poi è venuta tutta tremante le ho parlato davanti alle suore e da sola tutto quello che sono riuscita a farle dire tra fiumi di lacrime e che lei non poteva essere felice che in convento ho deciso di permetterle di restare ma non ancora tra le postulanti come voleva lei temo che la morte di madame de turvelle e quella di monsieur de Valmont l'abbiano sconvolta con tutto il rispetto per la vocazione religiosa non vedrei senza rincrescimento e anche con paura mia figlia abbracciare lo stato religioso mi sembra abbiamo già abbastanza doveri da compiere senza crearne dei nuovi e inoltre non è certo questa età che sappiamo ciò che ci conviene quello che raddoppia il mio imbarazzo è il prossimo ritorno di monsieur de Gercour bisognerà rompere un matrimonio così vantaggioso come fare la felicità dei nostri figli se non basta desiderarla e dedicarvi ogni cura vi sarei davvero obbligata se mi diceste cosa fareste al mio posto non so prendere nessuna decisione niente è più angoscioso che decidere della sorte degli altri e temo ugualmente di porre in questa scelta la severità del giudice o la debolezza di una madre mi rimprovero di continuo di accrescere i vostri dispiaceri parlandovi dei miei ma conosco il vostro cuore il conforto che potete offrire agli altri diventerà per voi il più grande che possiate ricevere addio mia care degna amica attendo le vostre due risposte con molta impazienza 161 madame de Rosemont al cavalier d'Anzeny dopo quello che mi avete fatto conoscere signore non rimane che piangere e tacere si rimpiange di essere ancora in vita quando si vengono a sapere simili orrori si arrossisce di essere donna quando se ne vede una capace di tali eccessi mi presterò volentieri signore per quanto mi concerne a lasciare nel silenzio e nell'oblio tutto ciò che può riferirsi e dar seguito a questi tristi avvenimenti mi auguro anche che non ve ne derivino altri dispiaceri oltre quelli inseparabili dal malaugurato vantaggio che avete riportato su mio nipote malgrado i suoi torti che non posso non riconoscere sento che non mi consolerò mai della sua perdita ma il mio eterno dolore sarà la sola vendetta che mi permetterò di prendere su di voi sta al vostro cuore valutarne l'intensità se permettete alla mia età una riflessione che non si fa alla vostra posso dire che se si sapesse con chiarezza qual è la propria vera felicità non la si cercherebbe mai fuori dei limiti prescritti dalle leggi e dalla religione potete star sicuro che custodirò fedelmente e volentieri il plico di carte che mi avete affidato ma vi chiedo di autorizzarmi a non consegnarlo a nessuno nemmeno a voi signore a meno che sia necessario per discolparvi oso credere che non respingerete questa preghiera e anche voi ormai sapete come spesso si debba piangere per essere abbandonati al desiderio di vendetta anche la più giusta persuasa dalla vostra generosità e delicatezza d'animo non mi fermo qui nelle mie richieste sarebbe degno di entrambe queste qualità consegnare nelle mie mani anche le lettere di mademoiselle de volange che certamente avete conservato e che non vi interessano più so che questa ragazza ha gravi torti verso di voi ma penso che non abbiate intenzione di punirla non fosse che per rispetto verso voi stesso non umilierete l'essere che avete tanto amato non ho bisogno di aggiungere che i riguardi che non merita la figlia sono almeno dovuti alla madre questa donna rispettabile verso la quale avete molti torti da riparare perché infine per quanto cerchiate di illudervi con una pretesa delicatezza di sentimento colui che per primo tenta di sedurre un cuore onesto e semplice diventa per primo fa autore della sua corruzione e sarà responsabile degli eccessi e dei traviamenti che ne seguono non stupitevi signore di tanta severità da parte mia è la più grande prova che posso darvi della mia profonda stima vi acquisterete nuovi diritti prestandovi come desidero a custodire un segreto la cui pubblicità farebbe torto a voi stesso e porterebbe la morte in un cuore materno che voi avete già ferito infine signore desidero fare un favore alla mia amica e se potessi temere un vostro rifiuto a questa consolazione vi pregherei di riflettere prima che è la sola cosa che mi abbiate lasciato 15 dicembre 172 Madame de Rosemont a Madame de Volange se avessi dovuto mia cara amica fare venire aspettare da Parigi le delucidazioni che mi chiedete concernenti Madame de Merteuil non mi sarebbe possibile darvele ancora e senz'altro non sarebbero che baghe incerte ma me ne sono giunte alcune che non mi aspettavo affatto che non avevo motivo di aspettare e che sono anche troppo sicure oh mia cara amica come vi ha ingannato questa donna mi ripugna entrare in dettagli su questo cumulo d'orrori ma qualsiasi cosa resi a debiti state sicura che al di sotto della verità spero mia cara amica che voi mi conosciate abbastanza per credermi sulla parola senza esigere da me alcuna prova vi basti sapere che ce ne sono moltissime e in questo momento sono nelle mie mani non è senza un grandissimo dolore che vi chiedo anche di non obbligarmi a motivare i consigli che mi chiedete per Madame de Volange vi invito a non fare opposizione alla vocazione che manifesta certo nessuna ragione può autorizzare e obbligare qualcuno a seguire questa vocazione quando non si è chiamati ma qualche volta è una gran fortuna che lo si sia e vedete che vostra figlia stessa vi dice che non la disapprovereste se conosceste i motivi colui che ispira i nostri sentimenti sa meglio della nostra vana saggezza ciò che conviene a ciascuno di noi e spesso ciò che sembra un atto della sua severità è invece un atto della sua clemenza insomma il mio consiglio e so bene che vi richierà dolore ma appunto per questo dovete credere che non ve lo do senza aver a lungo riflettuto e che lasciate in convento mademoiselle de volange visto che è la decisione che ha scelto che incoraggiate piuttosto che ostacolare la sua decisione e nell'attesa che venga realizzato non esitiate a rompere il matrimonio che avevate combinato dopo aver compiuto questo penoso dovere d'amicizia nell'impossibilità di poter aggiungere qualche consolazione non mi resta mia cara amica che chiedervi una grazia di non interrogarmi mai su niente che sia in rapporto con questi tristi avvenimenti lasciamoli nell'oblio che loro si addice e senza cercare inutili e dolorose spiegazioni sottomettiamoci ai decreti della providenza confidando nella saggezza delle sue intenzioni anche quando non ci permette di comprenderle addio mia cara amica 15 dicembre 173 madame de volange a madame de rosmond oh cara amica con quale terribile velo coprite la sorte di mia figlia e come sembrate temere che io tenti di sollevarlo che cosa nasconde dunque che possa dolorare ancora di più il cuore di una madre dei tremendi sospetti a cui mi abbandonate più sono consapevole della vostra amicizia della vostra indulgenza più raddoppiano le mie angosce cento volte da ieri avrei voluto uscire da questa crudele incertezza e pregarvi di dirmi tutto senza riguardi e senza reticenze ma ogni volta ho tremato di paura pensando alla preghiera che mi rivolgete di non interrogarvi alla fine prendo una decisione che mi lascia ancora qualche speranza attendo dalla vostra amicizia che almeno non mi rifiutiate ciò che desidero rispondetemi cioè se ho capito presso a poco quello che potreste avere da dirmi non abbiate paura di dirmi tutto ciò che l'indulgenza materna può perdonare e che non è impossibile da riparare se le mie disgrazie superano questo limite allora consento non lasciarvi spiegare che con il silenzio ecco dunque ciò che ho già saputo e fin dove arrivano i miei timori mia figlia ha dimostrato qualche simpatia per il cavaliere d'Anzeny e so che è arrivata al punto di ricevere lettere da lui e anche di rispondergli ma credevo di essere riuscita a impedire che questo errore giovanile avesse qualche conseguenza pericolosa oggi che temo tutto presumo che forse mia figlia eludendo la mia sorveglianza sia stata sedotta e abbia raggiunto il culmine della vergogna ricordo parecchie circostanze che possono avallare questo timore gli avevo scritto che si era sentita male alla notizia della disgrazia di Monsieur de Valmont forse questa sua sensibilità aveva per oggetto il pensiero del rischio corso da D'Anzeny nel duello quando poi ha pianto tanto venendo a conoscenza di tutto quello che si diceva di Madame de Merteuil forse ciò che io ho creduto un dolore per l'amica era solo l'effetto della gelosia o della delusione di scoprire il suo innamorato infedele anche l'ultimo passo può essere spiegato con questo motivo spesso ci si crede ai chiamati da Dio solo perché ci sentiamo disgustati dagli uomini insomma supponendo che questi fatti siano veri e che voi ne foste informata avreste potuto senz'altro trovarli sufficienti per autorizzare i severi consigli che mi date tuttavia se le cose stanno così pur biasimando mia figlia credo di avere il dovere di tentare in tutti i modi di salvarla dai tormenti e dai pericoli di una vocazione illusoria passeggera se D'Ansegnino non ha perso ogni senso dell'onore non si rifiuterà di riparare un torto in cui lui solo è responsabile e credo che il matrimonio con mia figlia sia abbastanza vantaggioso perché possa esserne lusingato lui come la sua famiglia ecco mia care degna amica la sola speranza che mi resta affrettatevi a confermarmela se vi è possibile immaginate come desideri che mi rispondiate e quale colpo tremendo sarebbe per me il vostro silenzio stavo per chiudere la lettera quando un signore di mia conoscenza è venuto a trovarmi e mi ha raccontato la scena tremenda di cui è stata protagonista l'altro giorno Madame de Merteuil siccome non ho visto nessuno negli ultimi giorni non avevo saputo niente di questa storia ed ecco il racconto tale quale mi è stato fatto da un testimone oculare Madame de Merteuil tornando dalla campagna l'altro ieri è scesa al teatro della commedia italiana dove ha un palco era sola e cosa che ha dovuto sembrarle straordinaria nessun uomo è andato a trovarla per tutto lo spettacolo alla fine come al solito si è recata nel ridotto che era già pieno di gente e subito si è levato un brusio di cui lei però apparentemente non ha pensato di essere l'oggetto vedendo un posto vuoto su un divano vi si sedette ma immediatamente tutte le signore che vi erano già sedute si alzarono quasi si fossero messi d'accordo e la lasciarono sola questo segno evidente di indignazione generale fu applaudito da tutti gli uomini e fece raddoppiare il brusio che dicono giunse fino allo schiamazzo perché non mancasse niente alla sua umiliazione e disgrazia bolle che Prevan che non si era più mostrato in pubblico dopo la sua avventura entrasse proprio in quel momento nel ridotto come lo videro uomini e donne gli si fecero intorno applaudendolo ed egli si trovò trascinato per così dire dal pubblico che lo circondava davanti a Madame de Mertoglie dicono che lei ha fatto finta di non vedere e di non sentire niente e il suo volto è rimasto immobile ma io credo che esagerino comunque sia questa situazione veramente vergognosa per lei è durata fin quando annunciarono la sua carrozza e come uscì quello scandaloso schiamazzare aumentò ancora orribile essere parenti di una donna simile Prevan la sera stessa è stato calorosamente accolto da tutti gli ufficiali del suo reggimento che si trovavano là e pare che senz'altro gli renderanno il suo posto e il grado la stessa persona che mi ha raccontato questi particolari mi ha detto che Madame de Mertoglie è stata accolta la notte seguente questo increcioso episodio da una febbre fortissima che dapprima fu ritenuta effetto della terribile scena di cui era stata protagonista ma da ieri sera si è saputo che si tratta di vaiolo esteso a tutto il corpo e manifestato si in forma violenta a dire la verità io credo sarebbe una fortuna per lei morirne dicono anche che questo scandalo nuocerà il suo processo che tra poco si celebrerà in cui avrebbe avuto bisogno di molta fortuna addio mia cara e degna amica in tutta questa storia vedo la punizione dei malvagi ma non trovo nessuna consolazione per le loro infelici vittime 18 dicembre 174 il cavaliere d'Anzeny a Madame de Rosemond avete ragione signora è certo non vi rifiuterò nulla di ciò che dipende da me e a cui sembra attribuiate qualche importanza il pacchetto che l'onore di inviarvi contiene tutte le lettere di Mademoiselle de Volange se le leggerete vedrete forse non senza stupore come si possa unire tanta ingenuità tanta perfidia almeno questo è quello che mi ha colpito di più leggendole per l'ultima volta ma soprattutto come si può non provare una viva indignazione per Madame de Mertoglio vedendo quale infame piacere quale impegno ha messo per corrompere tanta innocenza e tanto candore no non ho più amore per Mademoiselle de Volange non rimane in me niente di un sentimento così indegnamente tradito non è questo dunque che mi induce a giustificarla tuttavia questo cuore così semplice questo carattere così dolce e facile non sarebbero stati più portati al bene anche più agevolmente di quanto non siano stati trascinati al male quale ragazzina uscendo dal collegio come lei senza esperienza e quasi senza idee e facendo il suo ingresso nel mondo con un'uguale ignoranza di bene e di male come quasi sempre avviene quale ragazzina dico avrebbe saputo resistere di più a così colpevoli insidie per essere indulgenti basta riflettere come da circostanze indipendenti da noi dipenda la terribile alternativa della delicatezza o della depravazione dei sentimenti voi mi rendete dunque giustizia signora che i torti di Mademoiselle de Volange che io ho accusato così vivamente non mi avrebbero ispirato alcuna idea di vendetta e abbastanza dover rinunciare ad amarla odiarla mi costerebbe troppo non ho avuto bisogno di alcuna riflessione per desiderare che tutto ciò che la riguarda e che potrebbe nuocerle restasse ignorato da tutti se vi è sembrato che tardasse esaudire i vostri desideri a questo proposito credo di potervene rivelare il motivo ho voluto essere prima sicuro che non avrei avuto fastidi per le conseguenze della mia disgraziata faccenda quando chiedevo la vostra indulgenza quando osavo credere di averne qualche diritto avrei temuto di aver l'aria di volermela guadagnare in un certo senso con questa condiscendenza da parte mia è certo della purezza delle mie intenzioni ho avuto lo confesso l'orgoglio di volere che voi non ne poteste dubitare spero che perdonerete questa mia suscettibilità forse esagerata per la venerazione che mi ispirate per il gran conto che faccio della vostra stima lo stesso sentimento mi induce a chiedervi come ultima grazia di voler farmi sapere se secondo voi ho adempiuto a tutti i doveri che mi hanno imposto le disgraziate circostanze in cui mi sono trovato una volta tranquillo su questo punto la mia decisione è presa parto per Malta andrò con piacere a pronunciare e mantenere dei voti che mi si pareranno da un mondo di cui sebbene ancora così giovane ho già avuto tanto disgusto andrò infine a cercare di dimenticare sotto un cielo straniero tante infamie il cui ricordo potrebbe solo rattristare e inaridire il mio cuore sono con rispetto signora il vostro umile Danceny 6 dicembre 175 Madame de Volange a Madame de Rosemont la sorte di Madame de Mertoglie sembra compiuta mia cara e degna amica ed è tale che i suoi più accaniti nemici sono divisi tra l'indignazione che merita e la pietà che ispira avevo ben ragione di dire che sarebbe stata una fortuna per lei morire di vaiolo è guarita è vero ma è rimasta spaventosamente sfigurata inoltre ha perso un occhio come potete immaginare non l'ho vista ma mi hanno detto che è repellente la marchesa che non perde mai un'occasione per dire qualche malignità diceva ieri parlando di lei che la malattia l'ha come rovesciata e che adesso ha l'anima sul volto e purtroppo tutti hanno trovato che l'espressione era giusta un altro fatto viene ad aggiungersi alle sue disgrazie e ai suoi torti l'altro ieri ha avuto luogo il processo ha perso tutto spese interessi restituzione dei redditi tutto è stato aggiudicato ai minori di modo che quel poco del suo patrimonio che non era stato compromesso è stato assorbito dalle spese non appena ha saputo la notizia benché ancora ammalata ha fatto i bagagli ed è partita di notte sola in diligenza i suoi domestici oggi dicono che nessuno di loro ha voluto seguirla sembra che sia diretta in Olanda questa partenza ha suscitato ancora più scandalo di tutto il resto poiché la marchesa ha portato via i suoi diamanti di considerevole valore che facevano parte dell'eredità di suo marito l'argenteria i gioielli insomma tutto quello che ha potuto e lascia dietro di sé 50.000 libri di debiti una vera e propria bancarotta la famiglia deve riunirsi domani per vedere di trovare qualche accordo con i creditori e benché la mia parentela sia molto lontana mi sono offerta di concorrere anche io ma non sarò presente alla riunione perché dovrò assistere a una cerimonia ancora più triste mia figlia prende domani l'abito di postulante spero non dimenticherete mia cara amica che il motivo per cui sono costretta a questo grande sacrificio è il silenzio che avete mantenuto con me Danceni ha lasciato Parigi da 15 giorni si dice che vada a Malta e che abbia deciso di restarci si potrebbe ancora trattenerlo amica mia mia figlia è dunque così colpevole certo perdonerete a una madre di non volersi arrendere a questa tremenda certezza quale fatalità dunque si è abbattuta da qualche tempo su di me e mi ha colpito negli affetti più cari la figlia l'amica chi non rabbrividerebbe pensando alle sventure che può causare una sola amicizia pericolosa quanti dolori si eviterebbero se si riflettesse di più su questa verità quale donna non fuggirebbe alle prime parole di un seduttore quale madre potrebbe vedere senza tremare un estraneo parlare alla propria figlia ma queste riflessioni tardive non si fanno che quando gli avvenimenti sono accaduti e una delle più grandi verità come forse anche una delle più universalmente riconosciute resta inutile e soffocata nel turbine dei nostri incoerenti costumi addio mia cara amica in questo momento capisco come la nostra ragione è già insufficiente a prevenire le disgrazie lui ancora di più per consolarcene 14 gennaio a prevenire ring